Mamma, just hear the mail, put the girl, I guess he said, put my trick and now he's there, mamma, let me just be gone. Eh, mi scusi, ma noi stiamo andando di fronte a un concerto di qui, mi sembra un pochino schiccioso. No, no, fuori pure, è mica la sigaretta, per favore, eh, perché è così, eh? Chi mi va?